Io mi auguro di sì che non sia un episodio. Ovviamente ci siamo ritrovati per l'occasione del lancio del piano per il lavoro per il Sud, ma è evidente che ogni collega di tutte le regioni meridionali ha il fiato sul collo della crisi sociale. E' chiaro che vale per tutte le regioni, in modo particolare per la Campania, la Calabria, la Sicilia, la necessità di trovare lo sbocco lavorativo a decine di migliaia di ragazze e ragazzi. La molla fondamentale è questa. Poi è chiaro che siamo tutti consapevoli, tutti i colleghi di tutte le regioni del Sud sanno quanto sia complicata la contrattazione a livello nazionale quando dobbiamo fare il riparto delle risorse. Qui, se siamo uniti, potremo difenderci meglio. Quindi io mi auguro che sia l'inizio di una collaborazione istituzionale che consenta al Sud di difendersi quando dovremo parlare di fondo sanitario nazionale, di spesa storica, di riparto dei fondi per le università, per le politiche sociali, per gli asili nido.